Se state avendo difficoltà a cancellare e a liberare spazio sul vostro disco una volta installato così l'aggiornamento Windows 11 24 H2 dicono che non si possono così eliminare questi file, ovviamente ho 17 GB di roba da eliminare sul disco locale C quindi in questo caso se io adesso vado su file temporanei direttamente sul sistema qua di archiviazione non me li fa cancellare, poi semplicemente se clicchi elimina file e ti fa un lungo caricamento vuol dire che non te li che ho in genere quindi in questo caso possiamo direttamente eliminarle attraverso la pulizia disco quindi se scrivi qua sopra pulizia disco unità C vai su pulizia file di sistema selezioniamo così l'unità C e aspettiamo così il calcolo in corso ed eccoci qua, ovviamente pulizia di Windows Update abbiamo 16 GB poi ho eliminato in passato anche la cartella Windows.hold ci ho fatto anche una guida sopra su come eliminare quella cartella gigantesca di 40 GB quindi pulizia di Windows Update clicco sopra e faccio ok rimuovere in modo definitivo questi file, eliminazioni file, li aspettiamo una volta eliminati tutti i file di Windows Update possiamo andare anche sul disco locale C questo PC abbiamo anche recuperato un po' di spazio sul nostro disco locale una volta eliminati così tutti i file di Windows Update se in questo caso ci sono anche altri file da eliminare puoi semplicemente usare la pulizia disco e andare su pulizia file system quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao